E il mistero resta ancora fitto. L'unica imputata per la scomparsa di Denise Pipitone, ovvero la sorellastra Jessica Pulizzi, è stata assolta per insufficienza di prove. La sentenza è arrivata stamattina dopo quasi due giorni di Camera di Consiglio dei giudici del Tribunale di Marsala, dove si è celebrato il processo iniziato nel 2010. Gli 11 PM che si sono susseguiti in questi tre anni hanno descritto la Pulizzi minorenne al tempo della sparizione della piccola come una moglie gelosa. Dopo aver scoperto che Denise era figlia del padre Pietro, nata da una relazione con Piera Maggio, la ragazza avrebbe perseguitato la donna con l'appoggio della propria madre, Anna Corona, fino al gesto estremo di rapire l'odiata sorellina. La tesi però in giudizio non ha retto. La procura aveva chiesto per lei, oggi 26enne e madre a sua volta di una bambina, il massimo della pena 15 anni per concorso in sequestro di minore. Imputato era anche il suo ex fidanzato, Gaspare Galeb, condannato a due anni per false dichiarazioni al PM. Oggi Denise è stata nuovamente sequestrata, afferma a caldo Piera Maggio. Non smetterò mai di dire che Jessica è la colpevole e che qualcuno l'ha coperta, ma non posso dire chi. Non credo più nella giustizia, dice. E, come lei, anche Pietro Pulizzi ripete, non c'è giustizia, non c'è giustizia. Mentre per i legali dell'imputata la sentenza è giusta. Era il primo settembre 2004, quando Denise si persero le tracce, aveva quattro anni e stava giocando davanti casa della nonna a Mazzara del Vallo. Di anni, ora ne sono passati nove, ma su di lei non c'è ancora nessuna notizia e nessuna verità. Manuela Iati, Sky TG24